le racconto una storia eravamo lassù e sul punto di lasciarci andare abbiamo sentito una presenza io la descriverei come una luce una specie di bagliore etereo era un angelo si è venuto a trovare un angelo e assomigliava a matt damon matt damon affanculo sono d'accordo assomigliava a matt damon chi è matt damon no no non era esattamente un'entità fisica era più una ha detto questo gesa che altro ha detto era un angelo nudo e poi ha detto anzi ha decretato non è ancora arrivata la vostra ora capito matt damon l'angelo nudo nudo forse non dovreste scrivere tutto posso parlare con il direttore era un mio caro amico un attore quale film ha fatto non avete intenzione di pubblicarlo giusto sì sì è andata proprio così